Se avete bisogno di account modati o account glitchati oppure aggiunto di denaro in contatti su PS4 Oppure servizi di recovery su PC ad un prezzo decisamente moderato da persone serie, oneste e competenti Potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione come Telegram oppure Instagram Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato con un nuovo glitch bomba su GTA 5 Online, come state youtube? Spero tutto bene, eccomi qui ragazzi finalmente ritornato a caricare video per il mio fantastico Insomma fantastico è un pallone però vabbè, canale youtube e niente ragazzi insomma come avete dato dal titolo Oggi vi andrò a presentare un nuovo glitch per fare duplicazioni massive Quindi sostanzialmente fare una duplicazione dopo l'altra in veramente pochissimo tempo Diciamo che il succo di duplicazione massiva appunto sta proprio per questo Quindi fare duplicazioni a manetta in veramente pochissimo tempo Ultimamente ragazzi su GTA Online sono usciti molti glitch di duplicazione massiva Che cercherò di postarvi qui su youtube Anche se altri youtuber comunque ci hanno già postato il video Ovviamente manca la via versione quindi non venite a rompere il cazzo nei commenti Vi ringrazio E niente insomma ragazzi tratta di un glitch veramente molto semplice Un po' palloso devo dire e al contempo un po' macchinoso Perché comunque in questi giorni che vi ricordo sono stato male Quindi non sono stato presente su youtube Mi sono messo un po' appunto a provare questi nuovi glitch Questo qui devo dirvi che è un po' macchinoso ma comunque sia è abbastanza semplice da eseguire Se ovviamente andrete ad ascoltare quello che vi dirò nel video Andrete a fare una duplicazione circa ogni 2-3 minuti Quindi comunque non è neanche tantissimo tempo ma neanche troppo poco È una via di mezzo che comunque sia io reputo abbastanza buona Non ci serviranno molti requisiti ovviamente per fare questo glitch L'unico requisito importante che ci servirà ragazzi sarà avere una sessione buggata O comunque sessione bugata Chiamatela come mi pare Che cos'è una sessione bugata? È semplicemente ragazzi una sessione che possiamo creare dal creatore Che vi ho mostrato nel video su come bypassare tra virgolette Il limite del blocco giornaliero che vi ho lasciato sicuramente nelle schede Ecco l'unico requisito importante ragazzi sarà avere questa sessione Per il resto vi lascerò tutti i requisiti nella descrizione come al solito In modo che appunto potete leggerli E vi ricordo che se ovviamente non avete un requisito Potete farvi richiedere un'aggiunta di soldi nel vostro account per PS4 E appunto vi andrete a comprare i requisiti che vi mancano per fare questo glitch Grazie all'aggiunta di soldi Quindi niente ragazzi Detto questo prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico bel Polishonsons in su Che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Attivando la campanellina che trovate accanto al numero degli iscritti E vi ricordo come al solito di entrare nel mio gruppo canale Telegram Di cui anche questi troverete il link in descrizione E di seguirmi su Instagram Anche questo link sarà in descrizione Inoltre vi ricordo al solito che se vi servono account moddati Account glitchati o aggiunta di soldi per PS4 Oppure servizi di recovery per PC Al prezzo più basso d'Italia Potete contattarmi a dono dei contatti che troverete in descrizione E detto questo possiamo subito partire a bomba con la spiegazione del video Cercherò di andare abbastanza velocemente E di spiegarlo anche un po' più di volte Per farvi capire Quindi se il video uscirà abbastanza lunghetto Non rompete il cazzo Ma piuttosto gustatevelo Pace e fine Troverete tutti i requisiti nella descrizione per fare questo glitch Quindi mi raccomando ragazzi Leggete la descrizione Detto questo possiamo subito passare alla spiegazione del glitch Che è veramente molto molto semplice In ogni caso ragazzi il glitch funziona su tutte le console L'unica cosa è che per fare il passaggio su Xbox One Vi lascerò un commento qui sotto nei commenti Perché insomma spiegarlo in video è un po' complicato E quindi cercherò di semplificare la cosa Semplicemente lasciando un commento Comunque si ragazzi il glitch funziona per tutte le console La prima cosa da fare ragazzi sarà Accendere la vostra PS4 Dovete entrare in GTA V modalità storia E una volta ragazzi che sarete all'interno della modalità storia Semplicemente premete il menu di pausa Quindi fate comparire appunto il menu di pausa Andate su online, gioco a GTA Online E confermate ragazzi di voler entrare in una nuova sessione solo ad invito Aspettate che la sessione verrà caricata E una volta fatto ciò sarete ragazzi all'interno della sessione solo ad invito Quello che dovrete fare sarà semplicemente recarvi al casino Come stare vedendo in questo momento nel video Una volta che vi sarete recati quindi al casino Dovete semplicemente aprire il menu interazione Tramite il touchpad su PS4 E ragazzi andare ad impostare il logo di rientro su ultima posizione Mi raccomando è molto importante Una volta aver selezionato il logo di rientro su ultima posizione Semplicemente andate a cambiare uno stile Un accessorio al vostro personaggio E il gioco andrà a salvare tramite la rotellina arancione Che potete trovare in basso a destra nel vostro schermo Aspettate che questa rotellina arancione ragazzi andrà via Una volta fatto ciò Semplicemente fate comparire il menu di pausa Quindi premete il tasto option su PS4 Dovrete andare su online E dovrete andare nella modalità del creatore Quindi confermate di voler entrare nel creatore Una volta che sarete ragazzi all'interno del creatore Da qui potremo iniziare il nostro glitch Come si fa? E' veramente molto semplice Quindi una volta che ci troveremo ragazzi all'interno del creatore Tutto quello che dovremo fare sarà premere una volta freccia in su E praticamente il gioco Quando andiamo a premere appunto freccia in su Ci praticamente ragazzi farà selezionare l'opzione di torna a Grand Theft Auto 5 Ossia la opzione che andato alla selezionare appunto ci fa tornare all'interno della modalità storia Ebbene noi ragazzi dovremo appunto posizionarci sulla spunta chiamata torna GTA 5 E quando ci troveremo ragazzi posizionati quindi con l'indicatore sulla spunta torna GTA 5 Quello che dovremo fare sarà semplicemente premere il tasto option Quindi far comparire il menu di pausa Dovremo a questo punto andare su online Gioco a GTA Online e dovremo ragazzi posizionarci su sessione solo ad invito Una volta che ci saremo posizionati su sessione solo ad invito Quello che dovremo fare sarà spammare Quindi premere tante volte il tasto X su sessione solo ad invito Quindi spammate tante volte il tasto X Nel gioco ci saranno alcune schermate, alcuni caricamenti e messaggi di attenzione Che voi appunto dovrete confermare Perché vi dico di fare questo step di spammare il tasto X? Perché come avete visto dal video Praticamente quando andremo a confermare di voler entrare in una nuova sessione solo ad invito Andremo ad entrare nella sessione solo ad invito Ma allo stesso tempo andremo a confermare anche di voler tornare all'interno della modalità storia Quindi a questo punto aspettate che il gioco vi troverà una nuova sessione di GTA Online E come potete vedere ragazzi una volta che andrete a spawnare nella nuova sessione Non ci sarà il casino che normalmente insomma siamo abituati a vedere su GTA Online Ma appunto ragazzi ci troveremo la struttura del casino che possiamo trovare all'interno della modalità storia Questo significa che abbiamo appunto creato la sessione buggata correttamente Quindi ora per proseguire e quindi iniziare a duplicare Una volta che vi troverete in questo punto Quello che dovrete fare sarà semplicemente recarvi praticamente dove c'è il garage del casino Come vedete in questa posizione nel video Quindi una volta che vi troverete in questa posizione Dovete semplicemente aprire il menu interazione E dovrete andare ragazzi su servizi E poi su centro operativo mobile E a questo punto ragazzi dovrete richiedere appunto il centro operativo mobile Vi consiglio di richiedere il centro operativo mobile Avendo diciamo questa visuale che guarda verso il garage Per il semplice motivo Che appunto se andremo a richiedere il centro operativo mobile nella visuale Come mi sono messo io appunto nel video Il centro operativo mobile ragazzi vi sponerà nel parcheggio del casino E questo appunto vi farà risparmiare molto tempo Piuttosto che andarlo a prendere e portarlo nel parcheggio Quindi una volta che il centro operativo mobile ci sarà stato consegnato Quello che dovremo fare sarà semplicemente aprire il telefono Chiamare il meccanico e dovremo a questo punto ragazzi farci richiedere il veicolo da duplicare Non importa che abbia la targa personalizzata o meno Perché appunto la targa andrà a cambiare Ora come vedete nel video io non ho diciamo la ISSI Che mostra la targa perché ho appunto il mortaio nella parte posteriore Ma vi posso assicurare che appunto ragazzi la targa andrà a cambiare Comunque sia potete provare voi stessi appunto utilizzando il veicolo da duplicare Quello che dovete fare con il veicolo da duplicare Una volta che appunto lo avrete richiesto tramite il meccanico Dovrete a questo punto prendere il veicolo e recarvi ragazzi praticamente dietro il centro operativo mobile Da fare in modo tale che nel gioco in alto a sinistra vi darà l'opzione Premi freccia destra per depositare insomma questo veicolo all'interno del centro operativo mobile Ebbene quando appunto ci troveremo in questa posizione Dovremo semplicemente premere freccia destra Ci si aprirà questo messaggio di attenzione dove ci dice che il deposito veicolo personale del centro operativo mobile è pieno Noi ragazzi dovremo semplicemente confermare con il tasto X o il tasto A Quindi ci avviciniamo al retro del centro operativo mobile Premiamo freccia destra e poi tasto X per confermare Vi faccio vedere ovviamente intanto che nel centro operativo mobile c'è ragazzi il primo faggio Dal quale poi ovviamente la targa del faggio si andrà a trasferire appunto sul veicolo da duplicare Quindi come vi stavo dicendo dovrete appunto avvicinarvi al retro del centro operativo mobile Premere freccia destra e confermare il messaggio di attenzione con schermata nera A questo punto ci sarà una schermata di caricamento che durerà circa un 20-30 secondi Dopo questi 20-30 secondi ragazzi come potete vedere sponerete in questa visuale buggata Quello che dovrete fare ragazzi in questa visuale buggata sarà semplicemente aprire il menu interazione E andare sulla opzione ucciditi Quindi a questo punto dovrete confermare appunto di voler suicidare il vostro personaggio Se sarete fortunati praticamente quando venite a suicidare avrete la visuale verso la macchina E potrete capire se appunto la targa è cambiata o meno Se è cambiata allora potrete proseguire con il glitch Questo ovviamente se vi capita appunto la visuale che quando vi andate ad ammazzare vi fa appunto vedere la macchina Quindi una volta che vi sarete suicidati semplicemente aspettate di respawnare in strada E una volta fatto ciò per proseguire è veramente ragazzi molto semplice Quello che dovrete fare sarà per prima cosa prendere il centro operativo mobile E qui ragazzi potranno succedere due cose O che il centro operativo mobile praticamente si sarà buggato Quindi dovrete rimandarlo al deposito o richiederlo Oppure come è successo a me nel video Praticamente si buggerà il centro operativo mobile e dopo qualche secondo si andrà a sbuggare In ogni caso il glitch sta funzionando Se vi si bugga semplicemente rimandatelo al deposito e appunto richiedetelo Se invece non vi si bugga ma appunto vi si andrà a sbuggare Allora potrete continuare Quindi per continuare è veramente molto semplice Dovrete salire ragazzi all'interno del centro operativo mobile E quello che dovrete fare sarà praticamente posizionare il centro operativo mobile Da fare in modo tale che praticamente quando saremo all'interno del centro operativo mobile Comparirà il cerchio blu Invece quando andremo a scendere e saremo a piedi E andremo nel retro del centro operativo mobile Il cerchio blu ragazzi non andrà a comparire Ed è quello che appunto ci servirà Come state vedendo in questo momento nel video Quindi dovremo praticamente chiudere Ecco la porta posteriore del centro operativo mobile A questo punto quindi una volta che avremo diciamo chiuso la porta Da fare in modo tale che l'animazione che appunto ci fa entrare nel centro operativo mobile non ci sarà Allora potremo continuare Quindi per continuare è veramente molto semplice Dovremo recarci all'interno della ISI O comunque del veicolo che stiamo duplicando Quindi dovremo salire all'interno del veicolo E portare questo veicolo ragazzi all'interno del centro operativo mobile A questo punto dovremo semplicemente premere freccia destra E il gioco ci farà ragazzi entrare all'interno appunto del centro operativo mobile Come vedete non ci sarà la schermata di animazione di cui vi stavo parlando Vuol dire che quindi il glitch sta funzionando A questo punto quindi ci sarà una piccola schermata di caricamento E dopo qualche secondo sponerete nuovamente in strada all'interno del vostro veicolo Ora vi faccio vedere che andando su internet e andando a comprare una RH8 per esempio Nel centro operativo mobile ragazzi c'è appunto questo veicolo duplicato Che ora dovremo spostare in una proprietà Quindi vuol dire che abbiamo fatto questo step correttamente Quindi semplicemente per continuare adesso Dovremo aprire il menu interazione e diventare presidenti del motorcycle club Se non lo siamo già diventati Se invece lo siamo già diventati Dovremo rimandare praticamente il veicolo che stiamo usando per duplicare al deposito Dovremo quindi riaprire il menu interazione E richiedere un faggio Quindi uno dei tanti faggio che abbiamo comprato prima appunto di fare il glitch Richiedete il faggio tramite il menu interazione del motorcycle club E dovrete salire all'interno del faggio ragazzi E portarlo all'interno del centro operativo mobile Che dovrà sempre stare praticamente con la parte posteriore In modo che non vi darà l'animazione Quindi recatevi al retro del centro operativo mobile Premete ragazzi la freccia destra e X Per confermare il messaggio di attenzione Dove vi dice che il deposito veicolo personale è pieno A questo punto come prima ci sarà una piccola schermata di qualche secondo Con caricamento nero e subito dopo spawnerete sopra il vostro faggio Ora vi faccio vedere che appunto andando a comprare una RH8 per esempio E mettendola nel centro operativo mobile Come vedete ci abbiamo messo il faggio Vuol dire che quindi il veicolo che abbiamo usato precedentemente per la duplicazione È stato spostato in un garage Che quindi se adesso vorremmo continuare a duplicare Allora ci basterà continuare a richiedere Il faggio appunto tramite il menu interazione del Motorcycle Club Quindi ora per effettuare un'altra duplicazione è veramente molto semplice Dovremmo prendere praticamente il centro operativo mobile e portarlo in una zona aperta Che cosa intendo dire con aperta? Intendo dire che praticamente la porta posteriore dovrà praticamente appunto essere libera In tal modo che quando appunto andremo ad entrare a questo punto nel centro operativo mobile La porta diciamo che farà l'animazione Ok? Ed è quello che ci servirà Quindi a questo punto una volta aver spostato il centro operativo mobile Come avete visto dal video dovrete aprire il telefono Chiamare il meccanico e farvi richiedere appunto il veicolo che state usando per duplicare Quindi aspettate che il veicolo vi verrà consegnato Una volta fatto ciò dovrete salire all'interno del veicolo E portare ragazzi questo veicolo all'interno del centro operativo mobile Noterete a questo punto che il gioco come prima vi chiederà appunto di fare lo scambio Perché dovrete arregarvi nel retro del centro operativo mobile Premere ragazzi la freccia destra Il gioco vi farà comparire questo messaggio di attenzione Dove vi dice che il deposito veicolo personale è pieno E voi ragazzi dovrete confermare questo messaggio con il tasto X Come vedete ci sarà l'animazione che la macchina entrerà all'interno del centro operativo mobile Una volta fatto ciò ci sarà una schermata di caricamento nera che durerà circa 20-30 secondi Quindi aspettate questi 20-30 secondi Una volta fatto ciò vi ritroverete come prima in questa visuale buggata Quando vi troverete con questa visuale buggata semplicemente aprite il menu interazione E andate a suicidare il vostro personaggio A questo punto la targa andrà a cambiare Se siete fortunati riuscirete ad avere la visuale che inquadra sulla macchina possiamo dire Che quindi potrete notare che la targa sarà cambiata A questo punto una volta che sarete responati potrete proseguire Quindi come prima dovrete prendere il centro operativo mobile Quello che dovrete fare con il centro operativo mobile sarà nuovamente chiudere la parte posteriore Da fare in modo tale che appunto quando andremo a portare adesso il veicolo duplicato all'interno del centro operativo mobile Non ci darà appunto la schermata di animazione che ci fa vedere che appunto il nostro veicolo entra all'interno del centro operativo mobile Quindi dovremo fare in modo tale che quando saremo all'interno della ISSI Il cerchio blu del centro operativo mobile andrà a comparire nel nostro schermo Altrimenti dovremo posizionare meglio il centro operativo mobile Comunque sì ragazzi cercate di seguire il video con attenzione Quindi come prima nuovamente portate la ISSI appena duplicata o comunque sia il veicolo piano duplicato All'interno del centro operativo mobile Premete freccia destra Aspettate circa 10-15 secondi perché ci sarà una schermata di caricamento Dopo questa schermata di caricamento Sponerete nuovamente all'interno del veicolo duplicato E ora non ve lo faccio vedere ma comunque se andate su internet e andate a comprare una RH8 Nel centro operativo mobile ci sarà ovviamente appunto la ISSI appena possiamo dire depositata Quindi quello che dovrete fare sarà aprire il menu interazione andare nel presidente del motorcycle club E rimandare il veicolo che stiamo usando per duplicare al deposito Una volta fatto questo riapriamo il menu interazione andate su presidente del motorcycle club E andate ragazzi a richiedere un nuovo faggio Una volta che quindi il faggio vi sarà stato consegnato dovrete semplicemente portarlo all'interno del centro operativo mobile Quindi premete freccia destra confermate il messaggio di attenzione per lo scambio Una volta fatto ciò ci sarà una schermata di caricamento e come prima vi farà sponare all'interno del faggio appunto in strada Quindi vuol dire che il grid ci sta funzionando Ora ovviamente non ve lo faccio rivedere ma comunque anche qui se andate a comprare una macchina su leggendario motorsport o che sia E andandola a mettere nel centro operativo mobile ci sarà appunto il faggio Quindi avremo nuovamente spostato un'altra duplicazione E come vedete ragazzi abbiamo fatto due duplicazioni in meno di 15 minuti Che è veramente ragazzi tanta roba Vi posso assicurare che comunque facendo pratica riuscirete a fare duplicazioni anche in 2-3 minuti Ora per continuare lo rispiego brevemente non ve lo faccio vedere Comunque semplicemente dovrete staccare il centro operativo mobile dal muro Da fare in modo tale che appunto vi darà l'animazione Quindi rimandate il faggio al deposito Richiamate il meccanico per farvi richiedere il veicolo da duplicare Portate il veicolo da duplicare all'interno del centro operativo mobile Premete freccia destra X per confermare il messaggio di attenzione Ci sarà una schermata lunga tipo 20-30 secondi di caricamento nero Subito dopo sponderete con questa visuale buggata Dovrete aprire il menu interazione ragazzi e suicidarvi Se non potrete suicidarvi da subito vi consiglio di aspettare E quando vi potrete suicidare allora andate a fare questo step Questo vi appunto aiuterà a risparmiare molto tempo Quindi una volta che vi sarete suicidati Semplicemente sponderete nuovamente in strada Dovrete andare a prendere il centro operativo mobile E chiudere appunto la parte posteriore Mi raccomando è molto importante Quindi una volta aver chiuso la parte posteriore Da fare in modo tale che appunto il gioco non ci darà L'animazione che ci fa vedere che il veicolo Entra all'interno del centro operativo mobile Allora a questo punto dovremo andare a prendere Nuovamente il veicolo da duplicare Dovremo portarlo ragazzi all'interno del centro operativo mobile Premere ragazzi freccia destra E il gioco appunto ci farà entrare nel centro operativo mobile Ci sarà una schermata di caricamento Lunga circa 10-15 secondi Una volta fatto ciò ci farà responare in strada All'interno del veicolo e una volta che saremo sponati All'interno del veicolo dovremo semplicemente Scendere dal veicolo, aprire il menu interazione Rimandare il veicolo al deposito Riaprire il menu interazione, richiedere il faggio Salire sul faggio e portarlo ragazzi All'interno del centro operativo mobile Quindi premete freccia destra per confermare Di voler mettere questo veicolo all'interno del centro operativo mobile E di confermare con il tasto X O comunque il tasto A o il tasto invio Diciamo il messaggio di attenzione Con schermata nera dove vi dice che il deposito Veicolo è personale pieno Quindi voi confermate questo messaggio Ci sarà nuovamente un altro caricamento Lungo circa 10-15 secondi Una volta fatto ciò Responerete nuovamente con il faggio in strada E a questo punto vi basterà semplicemente Di mandare il faggio al deposito Tramite il menu interazione Del presidente del Motorcycle Club Quindi a questo punto dovrete semplicemente Staccare appunto il centro operativo mobile Se non l'ho già detto Da fare in modo tale che ci trarà l'animazione Quindi chiamare il meccanico nuovamente Richiedere il veicolo che vorremmo utilizzare Per la duplicazione E insomma ragazzi continuare a fare questo step Per fare soldi infiniti E quindi di fare duplicazioni a manetta In veramente pochissimo tempo Detto questo ragazzi Nulla Questo glitch si conclude qua E lo so 20 minuti Ah Krix Basta video lungo hai detto E bla 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 Raga non me dovete romper cazzo Ok? Già non c'avevo voglia di fare sto video Perché comunque Fa caldo Non c'ho voglia Il canale va male E già faccio degli sforzi Non venite a romper il cazzo Inoltre sono stato male Uno per una spiegazione dettagliata Ragazzi il tempo se lo prende Se volete seguirmi bene Se no prendo vi blocco E vaffangulo Cioè fine della storia Tutto qui Non è che c'ho molto da dire Cioè vi posso assicurare Solito cazzo di discorso Che faccio ogni volta Che in due minuti Ragazzi due minuti proprio contati Ad orologio Se voi fate sto glitch Ragazzi in due minuti Voi vi fate anche un garage Perché è la spiegazione Che rompe il cazzo È la spiegazione Il punto difficile La pratica ragazzi Non è niente La pratica È cosa che si impara Insomma Cioè fare pratica Ragazzi È il primo metodo Per imparare a fare i glitch Fidatevi di zio Griggs Mettetevi a fare sto glitch Poi venite a scrivere Nei commenti In quanto Avete duplicato I vostri veicoli Io ve lo dico Tre minuti E fate una duplicazione Eh ma tre minuti E poi fai un video Da venti minuti Sì Sì Qual è il problema Hai qualche problema Il canale tuo No Allora stai zitto E fai il cesso Cazzo Detto questo ragazzi Nulla Scusatemi lo sfogo Ma veramente raga Dovevo Non è che so qua Perdere tempo Io spero Ebbene apprezzato Spero che la mia spiegazione Sia stata il più chiara possibile Noi ci vediamo molto presto Con tanti altri nuovi video Vi ricordo di lasciare Un big polliciozzo in su Che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Attivando la campanellina Che trovate accanto Al numero degli iscritti Vi ricordo al solito Di seguirmi sul mio canale Gruppo Telegram Come anche di seguirmi su Instagram Anche questi link Saranno nella descrizione Come al solito Vi ricordo che Per account moddati Account glitchati Aggiuta di soldi E deluxo E omaggi All'interno del vostro account Per PS4 Oppure servizi di recovery per PC Al prezzo più basso d'Italia Da persone serie Oneste Trasparenti Affidabili con voi Al 100% Potete contattarmi Anche qui Ad uno dei contatti Che troverete in descrizione Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Grazie mille a chiunque Insomma In questi giorni Che sono stato male Mi ha aspettato Ha aspettato Zio Cricks Mi ha scritto Per sapere come Come stessi E vi ringrazio ragazzi Vi ringrazio tantissimo E nulla Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Coda Cricks è tutto Noi ci si becca Come al solito Con un prossimo video A prossima live A un prossimo glitch Bella Adiu